anche mettere i letti per momento esatto il dormitorio ci sarebbe ma ti pare dobbiamo farci poi 20 piani di scale per uscire infatti è quello un po' scopo no 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 va bene alex sono molto deluso da te dagli interni ma levi 12 secondi per rimettere le fornacce non l'hai fatto sto prendendo se lo giuro ma 12 secondi sono passati non ho inventato che sto facendo cioè devi venire a scavare la pietra a momento arrivo arrivo vaga io ti chiedo di intervenire perché alex veramente già ci sono veramente dei dettagli che qua in questo posto non vanno bene in più avevi tutto il tempo del mondo per prendere le fornaci quelle nuove quelle che ci servono avuto minuti aveva 12 secondi dove sei ora dove sei arrivo arrivo anche in questo momento non ci sei però mi sa che deluderò ancora guarda che schifo guarda guarda no vai a finire tu nel warden nooo c'è tempo per migliorare ecco qua qui e qua mettiamo ma perché no ma l'ha fatto veramente ci vuole tantissimo a cuocere la cobblestone e poi la devo ricuocere è biscotta la cobblestone